Vi posso dire che mi sono divertito a vedere questa partita Non magari nel primo tempo ragazzi ma quanto nel secondo Intanto parto col fare i complimenti al Milan perché bisogna essere sportivi Ed è giusto dare a Cesare quel che dice Cesare e il Milan si è meritata Sia tra andata che il ritorno quindi in questi 180 minuti complessivi Il passaggio del turno ragazzi Partiamo con ordine Lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate la campanellina Per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video Allora ragazzi un Milan che nel primo tempo Secondo me ha giocato sempre meglio del Tottenham Però diciamo che comunque è stato un Milan che dava campo al Tottenham Un Tottenham che faceva girare palla Molte volte arrivava in aria Però poi poca roba Nel primo tempo ho visto un Tottenham che è arrivato lì vicino alla porta Due tiri deviati ragazzi che potrebbero diventare insidiosi Ma dico come non importa cosa vuoi temere Mentre il Milan faceva giocare il Tottenham Quando doveva arrivare l'incontro a piede lo faceva molto bene Anche perché nonostante abbia fatto meno possesso nel primo tempo rispetto al Tottenham Ha avuto le occasioni più importanti Una tra tutte ragazzi la palla su Brahim di azione del primo tempo Che è lì ragazzi potrà fare secondo me anche meglio Visto il primo rimpallo che aveva vinto Finisce il primo tempo Comincia il secondo ragazzi con un pio completamente diverso Se nel primo tempo avevamo visto un Milan che dal punto di vista di occasioni Aveva fatto meglio Ma aveva lasciato campo al Tottenham Perché magari non c'era neanche il motivo sinceramente di scoprirsi Non c'era motivo di attaccare e rischiare di prendere gol Visto anche il risultato d'andata che gli vedeva avanti per 1-0 Mentre nel secondo tempo Cioè non solo ha giocato meglio il Milan Ma giocando in modo completamente diverso Facendo più possesso Mettendo anche alle strette il Tottenham a buone volte Sicuramente ragazzi poi la partita Ancora di più è cambiata con l'espulsione di Romero Ragazzi che è lì sinceramente Intanto bravissimo Littio Hernandez Sulla fascia Ma lì ragazzi Romero secondo me è molto ingenuo Ok che lasciandolo partire Praticamente significava farlo arrivare in porta Però È vero che lì ragazzi si vive di momenti Quindi magari quello che ti passa per la testa fai Però pensando da esterno Da una persona che guarda Da un tifoso Comunque da una persona che guarda la partita Io magari avrei evitato il rosso E avrei rischiato di farlo andare in porta Sperando che magari c'è qualche compagno che lo fermo Il portiere che pare il tiro Perché lì poi Una volta l'espulsione Diciamo che c'è stato ben poco da fare Comunque il Milan nel secondo tempo Ha sempre avuto le occasioni più pericolose Ha avuto qualche trittiri dal limite dell'area di rigore O addirittura praticamente a ridosso dell'area di rigore Sempre murati alla fine Il palo ragazzi di Origi Che alla fine è stata praticamente l'ultima azione di questa partita Che praticamente a fa Era il quale è stato il quadro della partita Il quadro Un Milan che attacca Ma che è arrivato lì Non riesce poi a concludere Il Tottenham alla fine ha avuto anche una bella azione Ha avuto una buona occasione Con Kane di testa E con Maignan E con Maignan E si è con Maignan ragazzi Giusto che sto dicendo Giusto E con Maignan che ha fatto una bella parata Però ragazzi ripeto Nel complessivo Secondo me Ma penso secondo tutti ragazzi Comunque per la gente che è sportiva Perché sono sportivo Un passaggio del turno meritato Un Tottenham grazie Sinceramente ok A San Siro Ma sicuramente qui ragazzi In casa loro Mi aspettavo un Tottenham diverso Sinceramente Sono contento che il Milan è passato Sinceramente mi è indifferente Non mi cambia la vita Anche perché Alla fine ragazzi Non è una finale Quindi Finché passano le italiane È sempre prestigio A meno che poi non significa Arrivare in finale In quel caso no Però comunque ripeto Ci sta Hanno meritato Giusto che siano passati Tottenham sotto tono Ma ragazzi A prescindere dall'espulsione Hai anche i primi 70 minuti in casa Almeno un gol lo devi fare Almeno un gol lo devi fare E il Milan è stato sfortunato Perché il Milan secondo me Anche se fosse finito ragazzi 0 a 1 O 0 a 2 Non ci sarebbe stato nulla di rubato Non ci sarebbe stato uno scandalo Anzi Quindi questo ci fa capire Quanto il Il Tottenham in realtà Non abbia fatto nulla E Quanto il Milan invece Abbe meritato di passare il turno Ora vedremo ragazzi Come Come si evolverà il tutto Andiamo ragazzi A vedere quanto è finito Il Paris Saint-Germain Con il Bayern Monaco Perché non l'ho vista ragazzi Non l'ho proprio praticamente vista La partita Vediamo 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 2 a 0 Per il Bayern Monaco Quindi ragazzi Per 3 A 0 in totale Passa pure il Bayern Monaco Mamma mia Messi Remar Mappé Company Tutti a casa Ma comunque ragazzi Complimenti a questo Milan Fatemi separare ragazzi Voi qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Della prestazione del Milan Se secondo voi ha meritato Se secondo me magari meritava più il Tottenham Comunque fatemi sapere la vostra Inoltre Come avevo già detto in inizio del video Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Ci vediamo domani con un prossimo video Bella ragazzi Ciao Grazie.